buongiorno amici e bentornati in un nuovo video dopo un po di pausa l'altro giorno ho scritto che arriverò con una superbomba ed effettivamente arriverò con una superbomba non perdetevela oggi invece è esattamente il giorno che oggi è il 18 dicembre mi pare andiamo a fare il pranzo di natale con andrea e danny sua ovviamente a monte rivata così andiamo a vedere anche un po di neve farà sicuramente freddino sono previsti all'incirca meno 60 gradi e quindi ci stiamo preparando di tutto appunto abbiamo intimo termico luce al super drone intimo termico calzettoni calzoni da moto file e stivali e poi sopra giacca scaldacollo guanti moffole sulla moto e tutto quello che ne deriva dai piccola pausetta caffè sotto subiaco direzione montelivata ormai siamo sempre affezionati facciamo due cosce d'acqua un caffettino e poi si sale a questo non l'aerano della piana dell'aver su arrivati montelivata botto di neve dronata pazzesca adesso andiamo a farci una super mangiata un certo effetto grazie dalla compagnia arrivati a tivoli siamo usciti da lì praticamente faceva zero gradi una cosa spaventosa siamo vestiti dei corsi se ne siamo andati un caffettino a tivoli e poi torniamo a casa giornata top dai regà alla prossima